41 anni fa a Palermo la mafia uccideva il presidente della regione siciliana Piersanti Mattarella. Il suo coraggio, ha detto il presidente della Camera Roberto Fico, sia di esempio per tutti. Sandra Cecchi. Corone di fiori, autorità e gente comune stamane in via della libertà a Palermo davanti all'abitazione di Piersanti Mattarella dove l'allora presidente della regione Sicilia fu ucciso in un agguato mafioso. Bersaglio facile senza scorta quell'uomo per bene che voleva il rinnovamento politico e culturale della sua terra e che per la prima volta parlò di trasparenza nell'assegnazione degli appalti pubblici che in quegli anni costituivano la cassaforte di Cosa Nostra. Quel mattino del 6 gennaio 1980 Mattarella sta andando a messa con moglie e figli. Il killer spara otto colpi, poi si dilegua. Piersanti muore tra le braccia della moglie Irma e del fratello Sergio, l'attuale presidente della Repubblica. La vicenda giudiziaria con le indagini condotte all'inizio da un giovane Pietro Grasso è stata lunga, complessa, segnata da depistaggi e non definitiva. Come mandanti sono stati condannati all'ergastolo tutti i boss dell'allora cupola di Cosa Nostra, ma mancano ancora i sicari ed i presunti mandanti esterni. Subito dopo l'omicidio Giovanni Falcone spiccò un mandato di arresto per l'ex componente Deinar Valerio Fioravanti, poi assolto. Il giudice era convinto non si fosse trattato soltanto di un delitto di mafia, stessa convinzione espressa da Leonardo Sciascia.